di nuovo, Gianluigi Trianni adesso, un attimo solo di pazienza con le slide, perché la nostra mitica e indefessa e faticante Veronica dovrà connettere le slide, un attimo di pazienza anche per chi ci ascolta online, lui è 3 anni, allora io intanto do, intanto lo dovrei far scorrere tu, se vuoi farlo faccio scorrere io quando mi dici, no esattamente, la cosa migliore che tu, o preferisci scorrere tu, la cosa che ti senti più a tuo agio, ok, un attimo di pazienza per chi ci ascolta Pink Tank rosso, laboratorio, va bene, aspetta, aspetta che... Ora che si vede quello, no, un attimo solo Qui intanto inizia con le tue provocazioni Tanto tempo si dedica alle star, io non sono la star, comincio però con le provocazioni perché sono... sono un provocatore, non sono un bravo oratore, ma provocatore lo sono, quindi comincio con le provocazioni... utopie che secondo me invece non sono utopie. La prima è che in politica estera io credo che il servizio sanitario nazionale e il tema della salute debbono assurgere a un ruolo centrale. Una breve esperienza africana, ho visto che Renzi mandava un porta elicotteri che si chiamava Cavour per promuovere armi, io ritengo che la politica estera italiana debba assumere come elemento centrale il tema della salute e dell'assistenza sanitaria pubblica, cosa che io sto provando a fare senza ovviamente grandi risultati e questa vicenda è ancora più eclatante dopo le vicende del Covid, non vi sto a dire di più. Secondo punto, seconda provocazione per un altro oratore, io ritengo che in sanità e in generale nel pubblico e nel privato si debba rivendicare con forza la riduzione dell'orario di lavoro, è una cosa che non si sente con insistenza io ritengo che debba entrare a pieno titolo tra gli obiettivi sindacali e soprattutto tra gli obiettivi politici di un eventuale movimento socialista senza aspettare il governo socialista, un movimento che assume il socialismo come ottica, come criterio di lavoro, come criterio politico, per me in questa fase il socialismo è italiano possibile la scrupolosa attuazione della Costituzione, quello è il livello di socialismo che possiamo oggi perseguire, che dobbiamo oggi perseguire in Italia e mi ricollego ad alcune suggestioni di Bradanini, in un certo senso in Emilia-Romagna il socialismo emiliano degli anni 70 è stato un momento alto del socialismo realizzato e credo anche del socialismo nel mondo perché non mi risulta che in altri paesi del mondo le caratteristiche di diffusione della salute e della istruzione sin dalla culla al cimitero siano stati così diffusi e costruiti come in quel periodo in Italia, in quella regione sulla quale finisco la cui storia non è finita bene diciamo e anche questo è un motivo di studio che mi auguro il costituendo laboratorio per il socialismo realizzabile o per l'attuazione della Costituzione faccia oggetto di studio io ho questa fascia, questa sciarpa rossa un po' perché ho male al collo, non sono così valitoso e per il secondo motivo che auguro che sia benaugurante per la nascita di questo laboratorio detto questo ho finito di dire le premesse e le provocazioni iniziali pensate a quanto occupazione si potrebbe avere in sanità riducendo l'orario di lavoro cosa che è indispensabile ovviamente, questo non significa che i professionisti, i lavoratori della sanità non debbano studiare, io quando lavoravo lavoravo 60 ore al giorno, alla settimana ma c'è poi il piacere individuale, la voglia individuale di lavorare quello che è importante è che la programmazione dei servizi non sia fatta su orari di lavoro intollerabili ragazzi non so più come... va bene, allora comincio anche senza le diapositive sotto il mio titolo parte dall'affermazione della lotta di classe, non è un vezzo peraltro in questa occasione molti studiosi hanno sottolineato e nominato esplicitamente la lotta di classe e nell'ambito della... no, non è questo, non è questo, ma no... scusate... appunto no, cioè farei la lotta di classe anche lì, però potendo la farei anche lì comunque faccio una citazione a memoria, non essendo brillantissima, la mia memoria Warren Buffett nel 2006 disse che i ricchi stavano facendo... ecco, allora diamo subito sulla seconda rapidamente... ok, io comincio sempre non negli ambienti qualificati come questo, ma forse è utile lo stesso, richiamando queste due importanti figure statunitensi, uno è Buffett il quale dice che è in corso la lotta di classe, quindi non è un vezzo nostro, è una constatazione oggettiva di questo grande investitore finanziario e lui dice che la stanno vincendo loro, la classe ricca, e accanto a me sono Anciovski che descrive quello che sta succedendo nel mondo in sostanza, e cioè che si tagliano i fondi dei servizi pubblici per aprire la strada alla privatizzazione. Questo non sono battuti di un vecchietto, Buffett è a capo di un impero che fa investimenti in assicurazione servizi finanziari, farmaceutica, media e altre tecnologie. Questa è la voce del padrone, non è un vecchietto qualsiasi, chiaro? Così come in Italia abbiamo altri, per esempio De Benedetti che ha la tessera numero uno del PD ed è parte di una multinazionale che si diffonde in Italia, in Germania e in India ed è compartecipata da fondi sovrani del Bahrain e da società tipo la Deutsche Bank stiamo parlando di queste, queste sono le persone che dicono di fare la Rotei Class, cioè il primo lo disse, il secondo fa finta di no, ma la fa. Andiamo soprattutto nel settore degli anziani in questa fase in Italia, ma nel mondo dappertutto. E poi abbiamo avuto il grande teorizzatore che continuo sempre a citare, e cioè la famosa lettera Trichet Draghi del 2011 con la quale si imponeva al governo italiano, in quel momento Berlusconi, della piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali di privatizzazione su larga scala. Qui stiamo parlando di queste persone, di queste scelte politiche imposte. Detto questo, stamattina ho studiato come un matto, per questo sono arrivato in ritardo, perché c'era da prepararvi questa e prepararmi e prepararci questa diapositiva di Crea Sanità, che è la sanità di Dottor Vergata qua a Roma, che secondo me è la voce raffinata, c'è una voce buzzurra, che è quella della Bocconi, poi c'è una voce più raffinata, più felpata, più contorta, che è quella di Crea Sanità, la quale sta suggerendo queste cose al governo. E il governo, come sappiamo, non è insensibile ai suggerimenti del padrone, diciamo, no? Mi sembra che... E allora, cosa dice Crea? La prima cosa è, in sostanza, io ve la devo tradurre perché era troppo alzigogolata per riportarvela direttamente, che bisogna comprimere i bisogni e bisogna ridurre il pubblico entro i vincoli di bilancio. È una cosa che Crea dice esattamente il 24 gennaio 2024, cioè due giorni fa, è l'ultima indicazione, non è quella di dieci anni fa, è quella che conferma oggi, che bisogna integrare il circuito privato con quello pubblico, messo tra virgolette, perché integrare il privato con il pubblico significa debellare uno e sviluppare l'altro, eliminare la distinzione tra prestazioni integrative e sostitutive, qui stiamo nel mondo dell'assicurazione delle mutue, quindi rompere anche questa flebile barriera che era stata fatta dalla legislazione in essere. Detraibilità delle spese sanitarie, che significa quindi indebolire le entrate dello Stato con questa grande illusione che anche oggi è stata criticata per il fatto di essere fatta proprio, in qualche modo da sindacati confederali che continuano ad accettare l'abolizione del cuneo fiscale solo per mettere qualche soldo in più in busta paga, aziende pubbliche efficientate in gestione in parte o totale ai privati. Questa è una frontiera nuova che io ve l'ho tradotta in maniera molto esplicita, ma loro la dicono in maniera contorta. La sostanza è questa qua. La nuova proposta è questa, questa di privatizzare la gestione anche di settori della spesa. Non è nuovissima perché avendo fatto io il direttore generale, da un po' di tempo si ragiona quando sei con l'acqua alla gola di cosa dare in gestione agli altri. ti vengono fatte queste proposte e qui è ancora più contorto utilizzare l'Health Technology Assessment, cioè la valutazione di qualità delle prestazioni e soprattutto delle altre tecnologie sanitarie per stabilire quali vengono dati a tutti e quali no. Quindi per ampliare, per codificare il mercato delle prestazioni sanitarie. Sempre per non perdere tempo perché sono troppo lungo e adesso faccio affermazioni che poi verranno giustificate dopo, io invece propongo subito contro a questa proposta di Crea in quanto neoliberista. E' chiaro, io sono solo, loro sono un istituto e per questo spero che prima o poi si riesca a costruire qualcosa che sia in grado di essere antagonista ai think tank neoliberali che sono tutti quelli che lavorano oggi in Italia. Non abbiamo un think tank in Italia che sia per il socialismo, diciamo, comunque antineoliberista. Allora intanto veniamo da quello che ho definito un martedì nero. L'approvazione dell'autonomia regionale differenziata, ci ho appena fatto un articolo e vi segnalo, contrariamente alle narrazioni che fanno tutti, anche a sinistra, con eccessiva ingenuità, che il problema importante è certamente la distruzione dell'unità dello Stato in Italia e io ritengo anche in un contesto esplicito di eversione costituzionale, com'è la sostituzione del primo ministro al Parlamento e appunto l'adozione dell'autonomia legislativa, non solo del centramento amministrativo, ma dell'autonomia legislativa delle regioni. Non è solo questa la questione centrale. La questione più importante è che l'autonomia regionale differenziata costituisce la via regionale alla finanziarizzazione e alla privatizzazione. Questo è abbastanza evidente. L'insufficiente bilancio di cui, che è 2024, per la spesa sanitaria, impedirà a qualsiasi regione di affrontare la spesa dell'assistenza sanitaria pubblica. Lo devo dire in quattro parole, poi vado avanti e eventualmente i concetti si approfondiscono. Quindi, ritornare alla centralità del Parlamento, il programma socialista, Ferus, è ritornare alla centralità del Parlamento, ritornare alla Costituzione, ritornare al decentramento solo amministrativo e chiaramente ritornare anche al ruolo dei comuni nei modi che verranno approfonditi, e non lo faccio adesso, in ottemperanza della Costituzione e dell'833 del 1978. Ovviamente bisogna aumentare la spesa storica. L'articolo di Crea, che forse avete visto prima, non l'ho richiamato, chiede 15 miliardi per riportare, dicono loro, il sedizio sanitario nazionale in linea con gli altri partner europei. In realtà, io ho sempre dissentito da questa mania di andare a confrontarci con la Francia, con la Germania. Io ritengo che dobbiamo andare a confrontarci con i bisogni assistenziali dei lavoratori e della gente e spendere tutto quello che serve per affrontare questo tema, nella convinzione che poi vi citerò dopo, che la spesa sociale in realtà è un investimento, non solo in salute, ma anche sul piano economico. Naturalmente bisogna eliminare la detrabilità delle spese assicurative. Si può al massimo accettare per un certo numero di anni, fin quando non cresce il servizio sanitario, che le fasce deboli possano rifarsi sul fisco, sulla fiscalità, per fasce deboli sotto i 50 mila euro, ma quelli sopra devono pagare tutto. L'altra cosa assolutamente importante, e lo dirò dopo, è costruire un'industria pubblica del farmaco. Questa roba non la dice nessuno, la sinistra la deve dire, la deve dire. Non possiamo stare nelle mani delle multinazionali statunitensi, inglesi, tedesche, svizzere, svedesi. Non è pensabile, anche il progetto, lo dico francamente, che è un pezzo di sinistra coltivato, di costruire un'industria pubblica europea, ma quando mai i governi in mano alla finanza in USA, in Inghilterra, eccetera, eccetera, possono condividere un progetto del genere. L'unica cosa è che in Italia si avanzi l'obiettivo politico di fare un'industria pubblica del farmaco, che peraltro con l'istituto farmaceutico militare esiste da molti decenni, e io ho appena scritto un articolo tempo fa, illudendomi che questa fosse una cosa nuova, non ho fatto in tempo a scrivere l'articolo, che ho saputo che i militari hanno fatto l'accordo con una società privata per sviluppare questo tipo di brand. Diciamo che la destra corre molto più velocemente di quanto noi riusciamo a immaginare. Non sono un esperto di politica del farmaco né di economia, qui ho ragionato solo come aspirante all'attuazione della Costituzione. Naturalmente, e lo dico di nuovo in maniera molto esplicita, occorre un'integrazione totale tra Servizio Sanitario Nazionale e Università, non intesa come subordinazione del Servizio Sanitario Nazionale all'Università, ma intesa come totale sinergia sui tre ambiti, della ricerca, della didattica e dell'assistenza. In particolare, il Servizio Sanitario Nazionale deve essere messo in tutti i suoi dipendenti, a cominciare dall'ultima OS, operatrice socio-sanitaria assistenziale, di fare ricerca almeno applicata, ricerca applicata, e ovviamente didattica formativa. L'Università farà l'altra didattica e inserirà queste attività nei suoi percorsi di formazione, di laurea e di specialità, eccetera. E l'altra cosa, eliminare il numero chiuso, non solo in sanità, in tutti gli ambiti universitari nei quali vi sia una parvenza di numero chiuso, perché noi dobbiamo affermare in primo luogo il diritto allo studio. Lo studio è un diritto, non è semplicemente lo strumento con cui vai sul mercato del lavoro, con cui sei subordinato al mercato del lavoro. Lo studio è un diritto, e è diritto anche nella laurea, anche, diciamo, sino al livello della laurea, e questo quindi va sostenuto con investimenti ad libitum, cioè per tutto quello che serve per la ricerca, per la didattica universitaria e anche del servizio sanitario nazionale. In una società basata sulla conoscenza, in un momento nel quale parliamo di intelligenza artificiale, noi cosa facciamo? Andiamo a conculcare il diritto allo studio e la qualità formativa dei nostri ragazzi. L'altro elemento fondamentale che voglio dire, in una società sempre più, come dire, multietnica, sempre più globalizzata, è evidente che una laurea presa in Italia può essere spesa non solo in Italia, ma anche dovunque. Colui che si è laureato con lei decide di andare e quindi ulteriormente non dobbiamo calibrare la formazione sulla base di un mercato domestico, quando la realtà è che tutti stiamo vivendo in un villaggio globale. Queste erano le cose, naturalmente altre ne ho dimenticate, queste erano le cose che volevo dire all'inizio come proposta, poi le andiamo a, come dire, in qualche modo giustificare. Allora l'autonomia regionale è differenziata, vedete l'Italia con tanti colori, i rossi sono al sud e naturalmente quella è una situazione difficilissima, ma vedete anche sotto com'è la distribuzione del reddito in Italia, e diciamo che la striscia rossa verticale segnala quali sono i primi 5 e oltre i 100 mila di reddito hanno e quali sono gli altri. E sono questi che vengono, in primo luogo sono questi che vengono offesi dall'autonomia regionale differenziata. Ribadisco, non solo per la sanità, ma anche per tutte le altre materie, perché ormai abbiamo tutti scoperto, la Turco cominciò a dirlo, poi se ne è dimenticato evidentemente nel 2000, aiuto, per fortuna le cose importanti le ho dette, la Turco se ne è dimenticata, ma va portata la sanità in tutte le politiche, signori miei, anzi compagni e compagni, se non investiamo nell'ambiente, nei trasporti, con un criterio di tutela anche della salute. È evidente che mettiamo in discussione la salute soprattutto delle classi meno abbienti, perché altri riescono a cercare poi i loro paradisi, non solo fiscali. Quindi l'autonomia regionale differenziata va demolita, va battuta su tutte e 23 le materie, senza se e senza ma, perché tutte e 23 sono passibili di incidere sulla salute, anche i giudici di pace, anche la vicenda, sembra strano, ma anche le banche ovviamente, tutte le materie hanno questa dimensione e tutte le materie sono un terreno di scontro tra finanziarizzazione e interesse pubblico. Qui c'è un'atlante della mortalità, nel quale vedete che comunque, come al solito nel sud, la mortalità evitabile è più diffusa, è un fenomeno più importante che al nord. Qui c'è una distribuzione della spesa sanitaria non uniforme per le varie regioni, naturalmente al sud di meno, adesso devo mettermi a correre, e voglio segnalarvi che la Costituzione, il famoso articolo 32, non dice solo che la salute è fondamentale, il diritto dell'individuo, interesse e la collettività, ma anche che la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti. Quando noi abbiamo in Italia milioni di famiglie che rinunciano alle cure e milioni di anziani che rinunciano alle cure, siamo fuori della Costituzione, perché non garantiamo le cure gratuite agli indigenti. Questo è un dato di fatto oggettivo, che andrebbe anche sollevato nelle sedi con maggiore potenza politico-istituzionale di questa. Una distribuzione della mortalità per classi sociali, vi dico che in maniera statisticamente significativa, dimostra che le classi sociali più basse sono quelle più esposte alla mortalità. Questo è uno studio vecchio, ma purtroppo non ci sono sufficienti studi attuali, io non li conosco, poi magari il tridico ne sa più di me, perché non sono i miei campi questi di studio, ma vi assicuro che c'è una questione di classe nella salute che si manifesta con i tassi di mortalità diversi, tanto è che questo studio fu fatto a Torino per dimostrare a Torino qual è la differenza di mortalità. Qui c'è una distribuzione della mortalità per titolo di studio che è proxy ovviamente delle classi sociali, perché chi è meno colto sta nelle classi sociali più basse e ha una speranza di vita inferiore rispetto agli altri, quindi abbiamo un grande tema della salute in termini di classe. Voglio anche segnalare che l'833, che degli improvvidi oratori della Bocconi hanno già esplicitamente detto che bisogna cambiarla, noi invece dobbiamo difenderla, perché l'833 dice testualmente che il servizio sanitario nazionale è destinato alla promozione, al panzenimento, dal recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Torniamo alle cure gratuiti e per tutta la popolazione torniamo all'attuazione di quell'articolo 32 della Costituzione e soprattutto dice che l'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali e territoriali garantendo la partecipazione dei cittadini e non compete necessariamente ai privati, cioè non va delegata ai privati. Può succedere che qualche volta ci si rivolga in situazioni estreme, ma l'obiettivo principale è non andare ai privati. Per questo motivo, e torno, vi segnalo che in Emilia Romagna vi segnalo che gli investimenti pubblici in sanità sono un fattore economico positivo, lo ha detto per primi nel 2016 come consulenti dell'Associazione degli ospedali privati. Il centro Nomisma, che ricordate è influenzato da Prodi, e loro hanno detto che per ogni 1.000 euro investito in risorse per la sanità si ottengono 1.570 euro nel sistema economico. Vi chiuso per dirvi soltanto che questa roba la dice anche il Censis, l'ha detta l'anno scorso, alzando a 1,84 il moltiplicatore del valore e dicendo anche che ci sono altri 50 miliardi di euro che potrebbero essere, come dire, rimessi nel circuito, costituiti 28 miliardi di imposte indirette e 22 miliardi di contributi. Potrei continuare ancora, ma finisco con quest'ultima diapositiva, ultima. Mi è capitato di promuovere questo libro di Chiara Cordelli. Chiara Cordelli è una politologa, filosofa della politica, la quale sostiene opportunamente che la finanzializzazione, cioè il trasferimento fuori dalla sfera pubblica verso il privato delle attività che competerebbero allo Stato comportano un rischio per la democrazia perché il centro di decisione non è dentro lo Stato ma diventa fuori e lo vediamo sostanzialmente tutti i giorni. Mi fermo qui, mi dispiace per aver parlato troppo e vi ringrazio dell'attenzione. Allora, purtroppo siamo stretti coi tempi e... e...